Allora, signori, signori, siamo a Loiano, io sono Marco Nelio Fontana e sono sull'Apponino Bolognese a divertirmi in bici con delle altre persone perché secondo me la condivisione della bici è la roba più importante e oggi ho avuto la fortuna di conoscere Dave, come adesso l'abbiamo soprannominato Davide, è un ciclista non vedente che su un tandem elettrico fa delle cose molto molto interessanti. Vero, bravi raga, turbo, metti in turbo, vai passalo, passalo! Oggi ho fatto dei giri in luoghi che mi hanno stupito molto e sui quali tornerò senza dubbio. Il gruppo è fantastico, mi sono sentito subito tra amici, ci sono un paio di discese che mi hanno dato una botta di adrenalina che ricorderò, tu, 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 tu. Ah, io dico che oggi balotta stupenda, gran bel gruppo, è stato molto divertente e ancora una volta mi ha fatto capire che ci sono tanti posti vicino a casa dove è divertente girare il mountain bike e dove si può anche girare il tandem e quindi sicuramente torniamo. anche perché io non credo che i sentieri finiscano qui, ce ne sono molti che non abbiamo visto, tipo, due su quattro. C'è un regalo. Eh, è un bambino. Allora, c'è qualcosa in bravo. Bologna, montana, bike, aria, neanche più nell'ora. Questa è la partenza, poi dopo siamo saliti e poi dopo, qua c'è giusto il percorso verso l'ora. Ragazzi, è un pensiero veramente bellissimo, cioè, grande, grande. E' stato bello condividere una giornata sui sentieri locali che sono veramente tenuti molto bene, assieme a tante altre persone e Dave appunto che ci ha fatto vedere cose molto belle e quindi un'altro è divertente. Ragazzi! Soicci, soicci. Soicci, soicci, soicci. Grazie a tutti Grazie a tutti